Prima di tutto buonasera, grazie di essere rimasti fino alla fine. Per noi era una grande occasione di confronto. Questo è stato un incontro istituzionale che ha coinvolto varie forze politiche con i loro esponenti della Commissione Bilancio della Camera e anche del Senato. Mi è fatto piacere avere qui anche Barbara Lezzi perché rappresenta uno degli esponenti di quella Commissione che sta avvagliando la legge di bilancio in queste ore, Rocco Palese, Giancarlo Giorgetti, Laura Castelli, che saranno invece le persone che tra qualche settimana vaglieranno la legge di bilancio qui alla Camera dei Deputati. È l'ultima legge di bilancio di questa legislatura e noi crediamo nel fatto che per riuscire a restituire un po' di servizi ai cittadini dobbiamo agire necessariamente su quelli che sono i vari vincoli, lacce e laccioli, che sono stati imposti ai comuni in tutti questi anni. Secondo me, con un atteggiamento malsano, mi spiego, io voglio essere un po' provocatorio, ho sempre rigettato la retorica del Sindaco, mi spiego bene, non ti permettere di offendermi, io sono un Sindaco, vabbè ci sono i sindaci che sono brave persone, ci sono pure quelli che sono stati dei briganti perché sappiamo benissimo in che condizioni sono stati lasciati alcuni comuni italiani. C'è stato un periodo nella nostra fase politica nella quale se eri un Sindaco allora nessuno ti doveva dire nulla. No, io sono abituato sempre a dividere tra brave persone e tra quelli che sono stati magari anche poco ortodossi nella gestione degli enti locali. Qual è però il risultato dell'attuale normativa sui comuni italiani? Che quelli che vogliono delinquere hanno sempre una scusa per giustificarsi e per dire no, io non posso spendere soldi perché ci sono una serie di leggi che non me lo consentono. I sindaci onesti, qualcuno prima parlava di pazzi innamorati, sono quelli che invece perché decidono di mettere mano ai bilanci dei propri comuni e cominciare a risolvere qualche problema, si devono portare sulle spalle la croce di tutte quelle normative che non gli consentono di fare veramente quello che vorrebbero fare nell'attuazione del programma, ma siccome sono persone coscienziose, sono persone responsabili, cercano il più possibile di portare avanti il loro bilancio comunale con la diligenza del buon padre di famiglia o possiamo aggiungere la buona madre di famiglia. E questa è la situazione in generale che vale per tutta la normativa italiana. Io credo che ci sia un atteggiamento malsano che è quello di voler imporre l'onestà della politica per forza attraverso le leggi. Anche su questo non voglio essere frainteso. Ci sono delle norme che riguardano i comuni che sono sacrosanti e che aiutano a far agire la politica e la pubblica amministrazione nell'ambito di argini fondamentali per evitare che si gestiscano le casse comunali in maniera disinvolta o si utilizzino le assunzioni o altro in generale i comuni come Bancomat per la propria carriera politica. Però è anche vero che non è che con tutte queste norme si siano ridotte quelle che sono gli atteggiamenti sbagliati della politica. Se noi vogliamo cominciare a permettere ai comuni di garantire servizi, di agire nel risanamento delle casse dei comuni, di cominciare a fare degli investimenti perché altrimenti se un sindaco non può fare gli investimenti io non vedo a che cosa serve il sindaco. Allora lasciamo semplicemente le pubbliche amministrazioni lì dove sono, ci togliamo anche il disturbo di fare le elezioni comunali. Se tu vuoi cambiare il volto di un comune devi avere gli spazi di manovra per fare gli investimenti. Se invece sei chiamato semplicemente a pagare gli stipendi dei tuoi dipendenti, scusatemi ma stiamo anche un po' ridicolizzando quello che è un valore importante del primo cittadino. Ovviamente ho fatto la distinzione tra chi si approfitta di questa condizione per dire ma il mio comune è in dissesto e non posso fare niente e chi invece dice mi sono preso la responsabilità di governare mettendo a posto anche il dissesto che mi ha lasciato quello di prima o quelli di prima e lo faccio però nell'ambito di una normativa che deve essere quanto meno leale. Possiamo dire che la normativa in generale ma soprattutto sugli enti locali debba essere leale. Se fai un piano di rientra a 10 anni non è che poi dopo che hai fatto i salti mortali ti arriva una normativa che all'amico sindaco gli permette di dilazionare a 30 anni o a 40 anni. Possiamo dire che se c'è un sindaco che ha sempre gestito i fondi pubblici in maniera corretta non debba ricevere gli stessi tagli di un comune che invece ha speso i soldi in maniera disinvolta e ha portato il comune al dissesto e possiamo dirci pure nell'ambito di questa proliferazione legislativa che forse è arrivato il momento di abolire qualche norma come quella che riguarda il fondo dei crediti di dubbia esigibilità che man mano continua a far aumentare la percentuale che ingabbia i comuni. Io sono d'accordo con le proposte fatte da Anci, sono d'accordo con molte delle proposte che sono state elaborate in Commissione Bilancio in queste ore e ovviamente noi come forza politica, lo dico guardando Laura Castelli, porteremo avanti molti emendamenti che vengono da tanti sindaci. Ma possiamo dirci su questo tema che se andiamo a vedere poi le richieste che vengono dai comuni sono fermate questa proliferazione normativa, quindi fermate anche le degenerazioni normative create in questi anni e metteteci fondi nei posti giusti, forse non chiedono neanche più soldi, chiedono soltanto di permetterne una gestione oculata e un utilizzo oculato. Io ogni volta che oggi ricevo da addetti ad un settore una proposta di modifica legislativa è sempre per abolire qualcosa, non per aggiungere altro, perché noi siamo in questo momento del Paese, il Paese è fermo perché qui in questo palazzo si produce una legge ogni due giorni e mezzo, non solo qui, Camera, Senato e enti di governo quando hanno la funzione legislativa. Siamo ad un momento del Paese in cui ogni due giorni e mezzo si sforna una nuova legge che si aggiunge alle 25 mila già esistenti, alle normative europee e alle leggi regionali. Ogni mezza giornata piomba sulla testa di un sindaco, di un cittadino qualsiasi, una nuova normativa. Questo che cosa significa? Che le imprese non possono fare gli investimenti, perché se tu fai degli investimenti e sai che ti cambiano le normative continuamente, è una cosa che cozza con l'idea di investimento a lungo termine e business plan, ma anche i comuni non possono predisporre piani di rientro, non possono predisporre quasi nulla, se non con la certezza il primo o poi cambierà tutto e quel primo o poi arriva sempre prima e non poi. È un atteggiamento culturale che dobbiamo cambiare, quindi io voglio che è del legislatore prima di tutto. Io credo che tutti quanti siamo d'accordo nel dire che di norme se ne dovrebbero produrre di meno, dovremo riorganizzare l'esistente e cominciare a lasciare liberi gli onesti di questo Paese, che io credo siano sempre la maggioranza, sia nei cittadini sia nei sindaci, visto che parliamo dei comuni, di poter agire onestamente. Poi quando c'è qualcuno che non si comporta bene, leviamo le pene per quel tipo di reato, facciamo i controlli, ma non possiamo pensare che si continui a tartassare sia gli enti locali che gli enti privati di norme perché c'è qualcuno che si è comportato male. Ma tanto quello là non lo prendi comunque perché in questa ragnatela normativa si ha imparato a muoversi in maniera eccellente per continuare a delinquere e chi invece si comporta in maniera corretta si deve portare sulla schiena, sulle spalle tutto l'onere di questa sovraproduzione normativa. Allora questo è un primo tema che voglio dire perché se ci prendiamo degli impegni nella legge di bilancio, io lo dico a tutti i sindaci italiani di buona volontà che vogliono lavorare e rimettere a posto i loro comuni, noi ci prendiamo l'impegno nella commissione bilancio e spero lo facciano anche le altre forze politiche, ma credo che l'impegno di oggi di venire qui al tavolo è importante, cercheremo di accogliere tutte le proposte di buonsenso che mirano a mettere a posto la finanza pubblica dei comuni, ma deve necessariamente passare per un atteggiamento culturale differente del legislatore che oggi non può pensare di rimettere di nuovo mano alle normative degli enti locali per aggiungere sempre qualcosa perché ogni giorno si sveglia qualcuno e lancia una nuova idea. Io credo che dobbiamo anche un po' smetterla di accanirci sull'ordinamento giuridico di questo Paese. Lavoriamo più sullo spostare i soldi, che è propriamente della legge di bilancio che stiamo per affrontare. Lavoriamo di più sul mettere a posto le poste di bilancio e consentire a chi ha i soldi di spenderli e a chi non li ha di recuperarli attraverso per esempio la riscossione di cui parlava il Sindaco Surdi prima. Diamo la possibilità agli enti locali di avere la loro autonomia, anche qui secondo me non c'è niente da cambiare nella Costituzione per dare questa possibilità. nella riforma del titolo V si danno gli strumenti per permettere agli enti locali di avere l'autonomia finanziaria. Il problema è l'attuazione di quella riforma. Per come è stata fatta abbiamo anche una commissione che monitora l'attuazione del federalismo fiscale che in realtà oggi nelle parole autorevoli del suo Presidente che è Alberto Giorgetti ci viene a dire che non è mai stato attuato veramente questo federalismo che era già nella Costituzione, che doveva avere dei decreti attuativi che consentisse una cosa, di togliere le scuse a chi è in mala fede e di dare gli strumenti a chi è in buona fede. Perché oggi come funziona? Il Sindaco ha tutte le responsabilità con pochissimi poteri di poter accedere al gettito fiscale per poter gestire quelle responsabilità. Perché la gran parte delle tasse che si raccolgono su un territorio passano per il Sindaco, ma di fatto vanno prima negli enti del Governo centrale e poi vengono ridistribuiti. L'idea qual era, ora diciamo io non sono un tifoso della riforma del titolo quinto, per carità, però l'idea quale deve essere? Che se tu hai le responsabilità e gli oneri hai anche la possibilità di gestire le tue tasse del territorio. Oggi invece quando si aumentano le tasse e lo fa un Comune ha sempre modo di dire no, ma ce l'ha imposto lo Stato centrale. Oppure ci hanno tagliato i fondi e quindi siamo costretti ad utilizzare l'aumento delle tasse per compensare il taglio dei fondi che viene da Roma. E allo stesso modo invece chi vorrebbe gestire questi soldi per cominciare a fare degli investimenti produttivi sul proprio territorio non lo può fare perché ha una serie di vincoli. Quando c'è i soldi, l'abbiamo sentito prima al Sindaco nella doppia veste di Napoli e della città metropolitana, quando c'è i soldi della città metropolitana a 500 milioni di euro non li può gestire, non li può utilizzare. Quando invece penso a Chiara Appendino e Virginia Raggi nei casi, ma ho conosciuto tanti altri sindaci che non sono della mia forza politica, ascolti invece esempi in cui per risanare i bilanci poi sei costretto a fare dei salti mortali nell'ambito sempre delle stesse tariffe comunali perché non puoi toccare quasi niente rispetto alla possibilità che ti dà la legge. Allora questo deve essere un nuovo approccio, quello di dirci, eliminiamo la gran parte degli enti intermedi inutili, cerchiamo di lasciare uno Stato che abbia un assetto chiaro, comuni, regioni e Stato centrale. Qualcuno dice eliminiamo le regioni e mettiamo le province, eliminiamo le province e lasciamo solo le città metropolitane. Queste sono idee, io non sono d'accordo, però sostanzialmente oggi con questo dibattito ci teniamo i comuni, le aree vaste, le città metropolitane, le regioni e lo Stato centrale, per non parlare poi di tutta una serie di altri enti intermedi che sono Iato, Iaro e tutto quello che è stato creato. Tutti enti che nascevano con un'idea che io posso anche condividere, cioè se io ti elimino la provincia, l'area vasta, la città metropolitana e ti lascio il comune e la regione, tra comuni si può avere la libertà di associarsi per gestire dei servizi di area. Io ti posso anche corrispondere dei fondi, ma deve essere libera la possibilità di associarsi tra comuni omogenei che vogliono gestire insieme dei servizi e quasi a oneri zero per la finanza pubblica, perché io corrispondo la gestione e l'ammontare per quel servizio al singolo comune. Ma oggi non è così, pure in Sicilia dove le province si chiamano liberi consorsi di comuni, ma liberi se sono strutturati sul vecchio schermo delle province, da cui tu non puoi uscire, quindi non sono liberi, sono un altro ente in cui sei costretto a stare in un momento in cui, e su questo abbiamo delle proposte sia sulle città metropolitane sia sulle province che sono fondamentali, cioè le province oggi hanno ancora delle responsabilità e delle gestioni di tanti servizi senza più soldi, perché non si sono abolite le province, si sono aboliti i fondi alle province, perché si dovevano recuperare per fare altre manovre economiche. E le città metropolitane programmano a un anno, cioè un'area vasta di 5-6 milioni di persone programma a un anno, neanche a tre anni. E allora questi sono due temi che fanno parte di alcuni emendamenti che saranno presentati nella legge di bilancio e che spero che trovino un punto di arrivo. In generale l'evento di oggi ha affrontato dei temi che in alcuni casi erano molto tecnici. Però sono temi fondamentali alla sopravvivenza delle comunità sul territorio. Vedo il sindaco di Ardia, qui Savarese, che è un'altra persona che sta affrontando delle difficoltà e i bilanci indifferenti per il suo comune. Ci sono altri amministratori qui che saluto, che ringrazio, oltre a quelli che sono intervenuti. Tutte queste persone, senza far sì che il dissesto sia sempre la scusa perfetta per dire non si può fare niente, ci tengo a precisarlo, ho detto all'inizio e lo dico alla fine, non è mai una scusa il dissesto, quindi non si può dire che il mio comune sta male e non posso fare niente. No, un modo bisogna trovarlo. Però tutte queste persone stanno maneggiando i nostri servizi essenziali senza più le risorse adeguate, ma soprattutto con tutte le responsabilità penali e civili in capo a loro. E questo che cosa significa? Significa che poi a un certo punto avere tutte le responsabilità senza i fondi funge da deterrente e quindi non li tocchi più quei servizi. Cerchi di fare il minimo indispensabile da amministratore dell'ordinaria amministrazione, ma non era questa l'idea che avevamo di chi amministrava i nostri comuni, che doveva amministrare e deve amministrare in Italia, che sono gli 8 mila comuni che devono amministrare, i sindaci devono amministrare e lo devono fare anche con creatività, con possibilità di investimento, di miglioramento di un territorio. Io questa esperienza l'ho fatta, la conosco un po' perché da 4 anni mi occupo degli enti locali della mia forza politica, ma sono 45. Però in tutti questi anni di carica istituzionale ho avuto modo anche di incontrare tanti altri sindaci. Si è scusato il sindaco di Venezia per non essere potuto essere qui, ma solo per problemi suoi legati alla logistica purtroppo, ma ci salutava e ci ringraziava. Ho conosciuto tanti sindaci di piccoli comuni, ma di comuni e grandi comuni, da nord a sud, i problemi ormai sono sempre gli stessi. Quindi spero che questa legge di bilancio possa essere almeno l'occasione, siccome è una legge di bilancio che anche il Ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio hanno detto comunque che è una legge di bilancio che non impatta, e quindi io aggiungo che non impatta sicuramente in positivo, mi permetto di dire, ma è una legge che cerca un po' di gestire all'ordinaria amministrazione. Facciamolo noi come Parlamento, facciamolo noi come Commissione di bilancio della Camera e del Senato, mettiamo mano a quella che è questa legge di bilancio e restituiamo i servizi ai cittadini ridando autonomia finanziaria e politica agli enti locali. Poi sfondate una porta aperta e dite se togliamo qualche vincolo poi alla fine ci sarà qualcuno che ne approfitterà. E va bene, però agiamo su altri provvedimenti, non agiamo sui vincoli agli enti locali, agiamo invece sulla selezione della classe politica quando si candida, agiamo per esempio su un altro tema, senza offendere la pubblica amministrazione. Io qui lavoro alla Camera con una delle migliori pubbliche amministrazioni che esiste al mondo per la loro preparazione, quindi non mi permetterei mai di offendere nessuno. Però è arrivato anche il momento magari di ricominciare a parlare di alta scuola della pubblica amministrazione, prima si parlava della cultura della dirigenza, dei dirigenti pubblici. Bene, cominciamo a imitare un po' la Francia con l'ENA, cominciamo a mettere in piedi un'alta scuola della pubblica amministrazione che consenta non solo ai nostri dirigenti e dipendenti di formarsi, ma anche di aggiornarsi e di aggiornarsi con i migliori che ci sono, non con carrozzoni politici che a volte tu vai ad ascoltare quello che ti insegna le cose e dici ma questo io me lo ricordo quando faceva il dirigente pubblico e magari ha mandato in dissesto un comune, una provincia o una regione. Questa roba qui è fondamentale oggi, formazione, selezione, agiamo su questi punti qui, ma non continuiamo a imbrigliare ogni anno cambiando le normative i bilanci dei comuni per far sì che poi alla fine i comuni debbano andare avanti col pilota automatico, tra commissariamente e gestioni bloccate, non solo dei bilanci ma anche delle politiche attive sul territorio. Io credo che dobbiamo sicuramente semplificare la macchina dello Stato, dobbiamo sicuramente cominciare a parlare anche di accorpamenti di comuni troppo piccoli, cominciamo a ragionare anche di quello, ma allo stesso tempo dobbiamo dirci che nel futuro dell'Italia sicuramente ci sono i comuni, sicuramente ci sono gli enti locali di prima istanza e sono la prima istanza del cittadino e quelli invece di continuare ad utilizzarli come bancomat per le manovre a Roma dobbiamo cominciare a ritrasferire gli risorse in maniera oculata, intelligente e responsabilizzare anche un po' di più la politica. Dico solo quest'ultima cosa, la mia impressione, mi corregga se sbaglio qualcuno che è qui dentro ha più tempo di me, è che dopo il 1992-93 con le riforme delle pubbliche amministrazioni c'era una politica che aveva ormai paura di toccare qualsiasi cosa e ha trasferito gran parte dei poteri, delle responsabilità alla pubblica amministrazione. Io vedo anche un passaggio che magari era fatto con il migliore, il Presidente Bassanini e oggi il Presidente di Open Fiber, una persona che comunque ha messo mano alla pubblica amministrazione con una sua riforma, però sappiamo benissimo che quella riforma oggi fa sì che a volte sia più importante il capo dell'ufficio tecnico e il sindaco. Io a volte dico fatemi eleggere il capo dell'ufficio tecnico, mi fate eleggere il sindaco per i poteri che gli sono stati dati. Nulla da togliere a queste persone, però oggi c'è bisogno pure un po' di restituire il primato della politica alla politica quando si amministrano gli enti locali e territoriali. Devono avere le responsabilità ma anche i poteri. Oggi io vedo tante responsabilità ma pochissimi poteri di poter incidere. Ciò non toglie che ci siano delle eccellenti manifestazioni di amministrazioni valide, capaci, che stanno cambiando l'assetto del loro territorio, stanno mettendo a posto i conti. Ciò non toglie che ci siano dei sindaci in Italia tantissimi con altissime capacità di gestione della macchina pubblica e ciò non toglie che è possibile cambiare oggi i comuni anche a legislazione vigente. Quindi io non fornisco alibi a chi dice che non è possibile. Però siccome i comuni gestiscono i nostri servizi essenziali è il momento anche di far sì che chi gestisce bene i propri comuni, chi risana bene, chi fa andare bene avanti i propri comuni lo possa fare grazie alla politica e non nonostante la politica nazionale e le politiche nazionali, che è un po' quello che vale per le nostre imprese. Perché a me piace quando qualcuno si vanta del fatto che l'Italia magari fa un po' più di esportazioni, fa un po' più di prodotto industriale. Però io dico sempre che dobbiamo ringraziare quel mondo economico produttivo del nostro Paese che è sopravvissuto da dieci anni di crisi nonostante la politica, non grazie alla politica. E che oggi quando io incontro mi dicono noi ci avete messo il 70% di tasse, la legge Fornero, tutte queste cose qui, però noi siamo sopravvissuti. Quindi adesso possiamo fare a meno della politica. Fate quello che volete, io vado avanti per la mia strada come attività produttiva. Questa è una sconfitta per lo Stato, ma lo dico senza polemiche. È una sconfitta per lo Stato perché io vorrei anche un mondo di attività produttive che dica io sono orgoglioso anche dell'aiuto che mi ha dato lo Stato nella gestione della mia impresa nel creare valore, non business valore. Questi sono dei temi che sicuramente nei prossimi quattro mesi saranno pure inflazionati. Però vediamo di non perdere l'occasione negli ultimi giorni di questa legislatura, che sicuramente passano per l'ultima legge di bilancio possibile. Prima c'era un giornalista che mi ha chiesto, ma lei ha detto che è l'ultima legge di bilancio? Come fa a dirlo? È scientifico, perché la Costituzione ci manda a votare. Poi non so se ci saranno altre leggi approvate dopo la legge di bilancio, però è il momento di andare a votare una legge di bilancio che almeno metta a posto i fondamentali. I fondamentali significa che se devono continuare a esistere, almeno adesso le province bisogna dargli i fondi per gestire i servizi delle nostre strade, delle nostre scuole superiori. I comuni devono avere i fondi per gestire i servizi comunali e quindi dobbiamo mettere in sicurezza un tessuto di enti locali che devono essere in grado di gestire il nostro Paese nei prossimi anni finché non si agirà in maniera incisiva sulla riorganizzazione degli enti locali in modo tale che quando qui a Roma facciamo una legge per i cittadini di un qualsiasi comune quella legge possa arrivare ai cittadini di quel comune senza attraversare dieci enti e chissà quante normative che lasciano sempre un po' di soldi per strada e un po' di poteri per strada. Quindi quando arriva tra le mani del sindaco o tra le mani dell'amministratore locale, l'amministratore locale dice ma questa legge ce l'avevate fatta vedere a Roma tre mesi fa in audizione, era molto più bella, che è successo? È stata massacrata dai contenziosi, dalla burocrazia e dalla proliferazione di enti e su questo abbiamo ancora molto da fare come Paese. Mi dispiace che non si sia fatto abbastanza in questa legislatura, però io non vengo qui a dire che dobbiamo farlo nella prossima. Credo che sia il momento di sfruttare la grande occasione di una legge di bilancio che ci consenta di prendere le istanze dei primi cittadini che sono venuti qui, ma anche di tutti quelli che in questi mesi ce li hanno segnalati. Quindi l'appello che mi sento di fare qui è anche come persone che sono venute intorno a questo tavolo è piena disponibilità dalle commissioni bilancio a recepire le istanze dei comuni e nel cercare di risolvere delle questioni che rischiano non di far saltare i politici comunali, ma i servizi comunali intesi come servizi essenziali alla persona. Grazie a tutti.